Ha fatto molto discutere la vista della prima commissione del CSM negli uffici giudiziari di Catanzaro in un momento molto delicato per la magistratura calabrese. Ma per il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Poniz, si tratta di un segnale di attenzione nei confronti di un distretto molto complesso. Una visita di cognizione, è un segnale di attenzione a un distretto molto complesso per la particolarità delle condizioni sociali e di quelle giudiziarie. Quindi io credo che sia stato un segnale di attenzione. È una coincidenza che siamo noi qui oggi nello stesso periodo, ma è una coincidenza affortunata perché vuole dire che tanto l'Associazione Nazionale Magistrati quanto il Consiglio sono consapevoli della peculiarità del vivere e lavorare a Catanzaro e portano qui un'esperienza. Nessun commento sulle inchieste e i provvedimenti che hanno visto coinvolti alcuni magistrati, ma il fatto che si indaghi anche all'interno degli uffici giudiziari non può che essere, secondo Poniz, una garanzia per i cittadini. Su quello che è accaduto non ho titolo per intervenire, il Consiglio Superiore ha fatto le proprie valutazioni e sono sicuro che le ha fatte per il meglio. Il fatto che se si è indagato in tutte le direzioni vuole dire che la magistratura sa fare benissimo il proprio lavoro e i cittadini devono essere sereni in relazione al fatto che i magistrati non hanno tempi protetti e che sono in grado di restituire verità ad ogni ambito in cui indagano. Quindi credo che a questo dobbiamo essere fiduciosi.